Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Amato, il responsabile della pasticceria del ristorante La Pergola di Roma, dove a gestire tutto c'è lo chef Heinz Beck, lavoro con lui da 15 anni, sono un accademico ampi, faccio parte di un gruppo che si chiama Pass 121, dove 11 pasticcerie da ristorazione, cerchiamo di esprimere il concetto di quello che si fa all'interno di un ristorante rispetto ad un laboratorio. Oggi mi trovo qui in Castalimenti per Arte Bianca per parlare dei prodotti di qualità a livello agrimontana, domori, cercheremo di far vedere ai corsisti tre tipologie di dolci diverse, una base tutto di cioccolato, parlando di un soufflé che contiene tre percentuali di cioccolato fondente, un 68, un 72, un 100% massa, useremo le varie tipologie di cioccolato per alterare un pochettino il gusto del fondente stesso, parleremo di una cassata siciliana, io da buon siciliano mi permetto di esprimere la cassata come dessert al piatto e non dessert sul piatto e lì toccheremo con mano il prodotto sempre agrimontana, parlando del mandarino candito e del pistacchio di bronte. Per concludere presenteremo una sfera di frutti rossi con un cremoso al tè di bergamotto e lamponi e lì useremo il cioccolato al latte e la purea di lamponi sempre dell'azienda agrimontana.